Ma che cosa? Un chilometro e 500 metri al traguardo volante con lo passato Aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh vecchio Sì, è abbassato la camera incontra perché c'era un joystick adesso li va ma andrà a prendere l'indolore ma scusa ma l'elicottero lo segui per tutta la gara? ma ti stai spiegando tu anche non puoi salire allo privato ma schegna vai, schegna vai ma io ne avevo sentito come prezzo mi portava ilaria ma mi portava il 결 il passaggio al traguardo a Polacca di Kilo è trascato per primo, è una e suda ah vi riparo da queste immagini però gravi in diretta io ero unissimo e allora si era il gruppone ero con il quadro si era accontentato di rimanere sulla ruota di Marco Marcato E adesso andiamo alla miraglia della UAE e in diretta. Proprio la squadra di Marco Marcato, siamo al fianco della miraglia. La guida è il direttore sportivo Marco Marzano. Si è voluto oggi regalare una giornata fuori in escursione. L'elicottero. Due elicottero, uno ha la testa e uno ha la coda. Guarda qua. La maglia rosa che hai vista, eh? Ho visto quella roba. Va sta finito. Mi ringrazio. Sperate che a noi... ma scusate